ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con valle tiberina 7 arte politica cultura e attualità il meglio di quello secondo la redazione di primo piano che è successo in questi giorni tra umbia e toscana parleremo di arte di eventi ma anche di sanità e di caro bollette quindi trasmissione estremamente interessante e allora ben ritrovata moira lena tassi ci eravamo lasciati con la promessa ci vediamo dopo l'evento kintsugi mi dicono estremamente partecipato buon successo di pubblico e critica lo rianvolgiamo il nastro va bene allora innanzitutto ti ringrazio michele per avermi invitata nuovamente e quindi saluto te saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento come mi vedi sono ancora più sorridente più rilassata rispetto all'ultima volta che ci siamo visti proprio perché veramente sono felice di annunciarti che è stato proprio un vero e proprio successo da pubblico e critica quindi con tanti apprezzamenti proprio da chi ha partecipato quella sera tant'è vero che il museo di santa croce era pieno pienissimo di persone che hanno assistito a questo spettacolo di musica danza recitazione e pittura intanto andiamo le immagini perché si è un bel vedere si è un bel vedere e come vedi questa scena è la scena all'inizio della della mia performance anche se anzi se poi tornare un po indietro così vediamo fin dall'inizio l'apertura in cui io inizio diciamo parlando appunto della del kintsugi che significa letteralmente dal giapponese riparare con loro perché questo spettacolo trae spunto proprio da questa filosofia di vita che è diventata una filosofia di vita in realtà è una tecnica un'antica tecnica giapponese che nasce pensa alla fine del 1400 in giappone e c'è una leggenda proprio legata al kintsugi che in realtà si dovrebbe pronunciare kintsugi però noi lo leggiamo kintsugi in italiano e quindi kintsugi quando l'arte ricostruisce perché cosa abbiamo voluto fare noi artisti ci siamo voluti ispirare proprio alla maestria quindi ai maestri del kintsugi di coloro che quindi riparano questi oggetti in ceramica rotti e li riparano come li riparano con della resina laccata ma anche con della polvere in oro e cosa fanno non vanno a come dire a cercare di come dire di ridare quella forma che aveva prima quell'oggetto no assolutamente vanno vanno a celebrare ad esaltare proprio quelle diciamo quelle fratture ecco proprio le fratture dell'oggetto stesso e le valorizzano con cosa con della polvere d'oro e quindi ogni artista con la propria l'arte quella sera ha cercato di dare una mano a ricostruire quindi ecco ricostruire come dire che era il voglio e di anni di ordi a ricordando l'evento si è stato promosso appunto per cercare di ricostruire di contribuire con quello che si può alla ricostruzione del paese di Piano Antonio esatto mi dicevi questo si esatto e abbiamo visto e poi li rifaremo vedere tanti artisti di qualità si assolutamente il soprano Sari sì e la moglie Stella Peruzzi Anthony Guerrini poi Andrea Radicchi esatto il nostro ventriloco Andrea Radicchi l'artista Montesti Lauretta Cucodai poi Valentina Martinelli Giordano Petri e poi le danzatrici Rosizza Bordieva e non voglio dimenticare nessuno e poi i danzatori di tre scuole di danza del territorio che sono il centro studi danza di Umbertide danza novarte e diamante danza quindi è stato uno spettacolo molto ricco che ha avuto tanto successo perché comunque tutti gli artisti hanno veramente dato il massimo Mi toglie una curiosità il tuo abito riprende la filosofia Kintsugi Sì esattamente infatti questo è stato realizzato da? Allora è stato realizzato da me insieme pensa mia zia e mia zia Veglia che colgo l'occasione per ringraziare pubblicamente perché le ho fatto riprendere dopo tanti anni l'ago e il filo che lei aveva abbandonato perché io prima nelle mie precedenti performance diciamo che realizzavo degli abiti green però avvalendomi comunque di abiti vissuti già usati quindi avevo già una base pronta sulla quale poi andavo a lavorare insomma trasformando quell'abito invece questa volta diciamo che l'ho ideato ex novo questa volta quindi è stato un abito non green però non ho potuto fare altrimenti in questo caso io perché la mia idea era proprio di realizzare un Kintsugi sul corpo quindi come vedi queste linee dorate mi toglie una curiosità perché le immagini chiaramente stanno andando random una scaletta improvvisato oppure avete costruito qualcosa perché vedo Radicchi che interagisce, che parla che cerca di far divertire anche artisti che me lo spiega questo spettacolo che io non ho chiaramente potuto non sono potuto venire per mille motivi però vedo che vi siete anche divertiti sì assolutamente allora non ti preoccupare perché probabilmente verrà riproposto chiaramente in modalità diverse adesso ci devo studiare un po' però ti sei perso qualcosa di bello non perché voglia vantarmi eccetera però come hai visto gli artisti sono veramente di altissimo livello e beh la scaletta l'ho studiata attentamente con molta attenzione perché tutti gli artisti sono tutti artisti comunque diversi tutti diversi l'uno dall'altro quindi devi comunque saper dare il giusto spazio valorizzare ogni artista per come è quindi voglio dire la scaletta assolutamente va studiata c'è un altro particolare che mi piace è quello che praticamente fa vedere Laureta che poi lo ripropongo che ad un certo punto dipinge tra credo delle crete che sono state praticamente pensate per il terremoto lì è la filosofia Kintsugi che cerca di ricostruire anche chiaramente quegli edifici che a noi purtroppo sono stati lesionati sì allora dopo che il dipinto lo facevate chiaramente lì sì esatto è stata una performance dal vivo anche quella allora ti spiego dopo che tutti gli artisti si sono esibiti brillantemente devo dire veramente con grandi applausi da parte del pubblico alla fine c'è stato un Kintsugi corale collettivo con il contributo di tutti gli artisti perché io ho voluto quindi raffigurare in questa mia opera uno scorcio di Pier Antonio come vedi con in primo piano il campanile che è il simbolo di Pier Antonio però vorrei precisare perché ho scelto Pier Antonio a rappresentanza anche delle zone limitrofe quindi non me ne vogliano anche le zone limitrofe come Sant'Orfeto eccetera perché ricordarle tutte divento problema quindi diciamo che Pier Antonio funge da simbolo da rappresentanza ecco per anche per le altre zone poi ho voluto mettere accanto quindi ho raffigurato il simbolo di Umbertide che è la Rocca e quindi cosa ho creato in questo quadro? Ho creato delle crepe, ho disegnato quindi delle linee che rappresentavano delle crepe che poi ogni artista è andato a ricoprire con un pennello color oro ogni artista quindi e quindi applicando quindi la tecnica del Kinsuji ed è stata una cosa veramente molto apprezzata molto bella che tra l'altro poi dopo ho coinvolto non solo gli artisti ma anche alcune persone del pubblico presente quindi e per lasciare cosa? Per lasciare quindi un'impronta permanente di tutti gli artisti che hanno partecipato no? e l'opera è stata quindi regalata a Umbertide e quindi a Pier Antonio C'è da dire Moira che un evento così prende tanto tempo e sono convinto anche che artisti importanti che comunque hanno il loro da fare ma non solo ringraziati perché si mostrano sempre molto disponibili Sì, guarda io infatti l'ho sottolineato diverse volte perché veramente tutti hanno subito aderito con grande entusiasmo a questa mia iniziativa appena io li ho contattati quindi e poi la prima sempre che io contatto è la mia carissima amica Cristina Goracci che ringrazio perché lei mi sostiene sempre nelle mie iniziative Non mi dice mai di no? Non mi dice mai di no mi sostiene sempre nelle mie idee infatti appena mi viene un'idea e lei è la prima persona che chiamo perché comunque è da anche da diverso tempo come tu ben saprai che io comunque che faccio degli eventi insieme a lei insomma collaboriamo insieme abbiamo collaborato insieme a tanti eventi tante mie performance insomma e quindi è un grande piacere perché poi io stimo moltissimo Cristina che anche lei è una grande professionista nell'ambito della danza Ci sono stati momenti più intensi? C'è stato un momento che ti ha fatto capire sì che era una cosa che volevo fare e dovevo fare? Allora il momento guarda mi vengono i berifidi allora il momento più intenso devo dire la verità è stato sempre durante lo spettacolo perché ti spiego io vabbè ho avuto quella piccola parte iniziale e va bene però sentivo proprio da dietro le quinte proprio l'applauso proprio caloroso da parte del pubblico dopo ogni esibizione di ogni artista e quindi già da lì senti proprio la senti che insomma dici beh insomma abbiamo trasmesso abbiamo trasmesso delle emozioni molto forti insomma ah qui vedi per esempio quelle le danzatrici di amante danza quelle di prima che indossavano dei pezzi di stoffa come hai visto nella nella performance e anche quindi le ho realizzati insieme a mia zia Avelia perché rappresentavano i pezzi di ceramica rotti quindi con l'oro intorno no? quindi riparati tra l'altro complimenti a chi ti ha fatto il filmato perché sinceramente sì sì no devo ringraziare tante persone perché infatti è Beatrice Mancini di 321 video che ha realizzato delle immagini fantastiche che poi la location il museo di Santa Croce non è nemmeno una location facile perché non è un teatro no? quindi insomma non c'è un palcoscenico anche sopraelevato quindi insomma è anche più difficile da gestire però chiaramente c'è anche un'atmosfera veramente incantevole perché è un'ex chiesa che risale alla fine del del 1200 tra il 1200 e il 1300 poi c'è quella bellissima pala della deposizione di Luca Signorelli che è magnifica quindi ritornando al discorso di prima del del coinvolgimento da parte del pubblico quindi se ho fatto bene o male beh l'ho avvertito sempre durante tutto lo spettacolo e poi la parte finale anche quando c'è stato questo Kinsuji corale e questo applauso finale che tra l'altro alla fine il pubblico pensa Michele e io pensavo adesso il pubblico insomma si alza e se ne va perché insomma con questo Kinsuji corale abbiamo insomma tutti gli artisti hanno sfilato era un saluto insomma da parte di tutti gli artisti invece il pubblico non se ne andava rimaneva lì quindi ho dovuto non volevo prendere il microfono ho dovuto prenderlo per forza insomma ho fatto il ringraziamento insomma ecco finale insomma cercando di far capire che ecco lo spettacolo non poteva continuare e ecco era era finito quindi sì sono stata molto contenta e c'è stato veramente un grande un grande pathos insomma abbiamo trasmesso tanto pathos allora altra questione che vorrei cercarti affrontare con te perché ora hai spoilerato non so se te ne sei accorta sì lo riproporremo sì quindi possiamo dire che non è il primo ed ultimo Kinsuji ne avremo altri mi auguro di sì ci sto lavorando l'ho già insomma adesso ci sto lavorando perché il Kinsuji sai insomma riparare le nostre ferite noi di ferite ne abbiamo tante sia noi esseri umani ma anche se ti guardi intorno insomma non solo l'umanità è piena di ferite ma insomma poi ogni essere umano ha le proprie ferite ma anche comunque il nostro pianeta ha le sue ferite insomma quindi le riparazioni sono tante da fare le riparazioni sono tante quindi sai possiamo creare tanti eventi legati proprio a questa filosofia mi toglie una curiosità sto gruppo di lavoro che sei riuscita a costruire mi pare un gruppo di lavoro coeso cioè siete anche molto affiatati ripeto vedevo Andrea Radicchi che si divertiva con gli artisti poi è chiaramente sceso tra il pubblico ma anche gli stessi artisti stavano interagendo con il pubblico ho visto molto coinvolgimento da questo punto di vista sì sì e guarda allora ti voglio raccontare un aneddoto proprio di questo spettacolo perché il giorno stesso pensa il giorno stesso dell'evento nel tardo pomeriggio quindi quando prima di fare le prove poco prima di poco prima di fare le prove generali quindi mi chiamano mi chiamano sia Giordano Petri che Valentina Martinelli due grandissimi attori professionisti insomma sai insomma inutile che io ti sto ad elencare il loro curriculum poi Giordano Petri insomma si è trasferito anche a Roma perché per necessità proprio lavorative lui ha ricevuto tantissimi premi nazionali internazionali insomma insomma l'elenco è tanto lungo che adesso non te lo sto a descrivere però per farti capire la grande professionalità la grande preparazione la grande bravura di questi artisti perché mi chiamano ecco il giorno stesso e mi dicono guarda dovevano venire anche loro avevano creato una performance nella quale erano coinvolti anche due musicisti che sono Valentina scusami che sono Fiorella di Pentima e Samuele Martinelli che però all'ultimo minuto per motivi di salute perché è venuta improvvisamente un'influenza insomma che proprio li ha immobilizzati a casa e quindi insomma come facciamo eccetera e allora si è creata nuovamente un'altra sinergia meravigliosa perché Anthony, il maestro Anthony Guerrini quindi ecco ha preso il loro posto e hanno creato una performance meravigliosa nessuno si è accorto di nulla quindi hanno fatto questa performance accompagnati dal maestro Anthony Guerrini ma questo perché? Perché loro hanno una grande preparazione, hanno un'esperienza anche in questo ambito di anni e anni di lavoro e quindi sono stata felicissima perché subito ecco si è creata nuovamente questa sinergia tra artisti ed è una gran bella cosa questa senti poi mi dicevi anche che ci sono stati dei piccoli intoppi che però si è riuscita a superare no? piccole spese impreviste grazie anche a qualche sponsor che ti ha dato una mano allora torniamo a ringraziare assolutamente allora io voglio ringraziare allora fammelo dire assolutamente voglio ringraziare quindi l'Armeria Bruschetti di Alessandro Bruschetti 321 video di Beatrice Mancini che ha fatto tutte le riprese come vedete meravigliose poi l'associazione di solidarietà Help European Local People Emidi Trasporti di Paolo Emidi e Herm Group quindi ringrazio Claudio Bigi un grande amico e poi ringrazio anche scusami Andrea Sabbiotti di Aurora Eventi che ha curato tutto il service perché comunque senza il service come avremmo fatto quindi per quanto riguarda l'audio per quanto riguarda le luci credo di non aver dimenticato nessuno poi chiaramente ringrazio anche il comune di Umbertide perché ci ha dato comunque una location meravigliosa che è il museo di Santa Croce e ce l'ha dato insomma per una giornata intera alla fine quindi abbiamo potuto anche fare le prove generali no alla fine è andata tutto bene quindi nonostante comunque l'amministrazione stava attraversando anche un momento comunque molto difficile perché è legato quindi a tutte le problematiche riguardanti quindi il terremoto di Pierantonio e zone limitrofe quindi no alla fine è andato tutto molto bene e invece per quanto riguarda gli eventi in Alto Tevere ti rivedremo qua da noi ma assolutamente sì perché io comunque allora tra un po' c'è stato in città non è stato in città se la tassi qualcosina fa quindi qualcosina dovrai pur fare nel cartello c'è la tassi da qualche parte allora sì già mi hanno contattato già ti dico questo mi hanno già contattato anche perché poi infatti mi hanno già chiesto no ma lo devi riproporre perché veramente ci è piaciuto tanto ci è piaciuto tanto quindi adesso vedrò un po' come fare proprio per estate in città oltretutto quindi vediamo anche perché comunque sai non è che puoi riproporre lo stesso evento tale quale come è stato nel Museo di Santa Croce perché comunque bisogna anche studiare la location nella quale uno va ad operare insomma artisticamente parlando perché la piazza di Città di Castello non è il Museo di Santa Croce quindi ci sono delle quindi si differenzia sotto tanti punti di vista quindi sicuramente ecco andrò a realizzare a organizzare un evento ma che diciamo seguirà sicuramente questo filone perché il Kinsuji è una filosofia che veramente mi entusiasma mi piace molto proprio me la sento tanta questa filosofia mi toglie una curiosità esforo di qualche minuto avevi iniziato un percorso da speaker radiofonica e ti eri anche bravina sì lo hai abbandonato? no non è che l'ho abbandonato però adesso diciamo che è un periodo in cui mi concentro molto nella mia attività artistica e quindi diciamo che se fai questo non puoi fare l'altro cioè non posso intervistare me stessa quindi è per questo che sono venuta da te anche e quindi in questo senso però no è sempre una cosa che a me piace anche perché comunque le interviste che facevo erano comunque tutte legate ad argomenti che comunque avevano come tema principale l'arte o la cultura un argomento comunque culturale legato comunque all'arte oppure comunque che in cui volevo valorizzare qualcosa che riguardava la mia città che è città di castello alla quale io sono molto legata e quindi mi piace che venga valorizzata ti vedi di nuovo a fare qualche evento e a presentare qualche evento o oramai quella è una diciamo parte di te che hai riposto in un cassetto no assolutamente io sono sempre un'artista chiaramente può e deve far tutto sì assolutamente io sono molto aperta mi hanno definito appunto artista poliedrica e mi ci sento perché io è come se avessi tante cose dentro di me non so come spiegarmi ecco mi hanno detto tu sei come un vulcano beh effettivamente un po' mi ci sento perché ecco mi piace proprio ho tanto da mostrare ma nel senso positivo del termine ora non voglio peccare di presunzione o quant'altro però perché mi piace poi farlo insieme ad altre persone ad altri artisti chiaramente e presentare come no io assolutamente sono dispostissima a me piace perché poi quando si tratta di un evento di beneficenza come ho fatto in passato che ho presentato diversi eventi di beneficenza legati a suo tempo alla ricerca contro il cancro a favore della IEO come ricordi insieme a Fabrizio Paladino e quindi anche in quel caso coinvolgevo sempre grandi artisti tutti legati anche al territorio dell'Alta Valle del Tevere e con quella finalità sempre di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro perché anche quel tema è un tema molto importante oggi il tema della ricerca e allora ti ritroveremo sicuramente da queste parti chissà beh ci spero assolutamente sì, non solo qui insomma ecco spero di fare tante belle esperienze artistiche poi nel tempo nostro a disposizione è terminato grazie tanto so che mi richiamerai perché diciamo sei un vulcano e i vulcani di solito ogni tanto eruttano idee bene prima parte di Valtiberina 7 che termina qua breve pausa per la pubblicità e poi i servizi che vi ho anticipato parleremo di sanità e di caro bollente ma adesso un po' di pubblicità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti